Buongiorno Presidente Masoni, il liceo Leonardo da Vinci lavora da molto tempo sulla legalità, la solidarietà e la responsabilità, pulcro dell'attività didattica, portata avanti anche da molti progetti per sensibilizzare i cittadini del futuro. Questo è proprio l'ideale di liceo Leonardo da Vinci? Sì, intanto noi siamo l'istituto di istruzione superiore Leonardo da Vinci, perché al nostro interno abbiamo anche l'istituto tecnico agrario. Sì, la cifra distintiva della nostra scuola è proprio l'impegno a favore della legalità e della responsabilità, perché pensiamo che oltre all'ovvia mission della scuola, che è quella di formare i vostri studi, sia molto importante formare dei futuri cittadini, perché pensiamo appunto che delle radici robuste vi diano le ali per volare. E quindi facciamo tutto questo nella speranza che voi possiate essere dei cittadini responsabili e partecipi. Grazie mille. Prego, ciao.